Bonus psicologo, in arrivo il portale internet per richiederlo per il presidente degli psicologi pugliesi, Vincenzo Gesualdo, e una risposta concreta alla crescente richiesta di sostegno. Sentiamo. Il bonus psicologo si potrà richiedere attraverso un portale internet attivato dall'Inps, a cui spetterà poi il pagamento della prestazione agli iscritti all'ordine degli psicologi resisi disponibili. A confermarlo sono i professionisti pugliesi guidati dal presidente Vincenzo Gesualdo, secondo cui strutturare un'offerta psicologica integrata nel sistema sanitario nazionale è una risposta concreta alla crescente richiesta di sostegno. La misura, lo ricordiamo, consentirà di accedere al contributo senza oneri o anticipazione da parte della persona. Per questo bonus, inserito nel decreto mille proroghe a febbraio, sono stati stanziati 38 milioni di euro. Di questi, 20 milioni per il disagio psicologico di bambini e adolescenti che si trasformeranno in assunzioni di personale per assistere queste persone. 10 milioni, invece, saranno riservati all'accesso ai servizi psicologici di fasce più deboli, in modo particolare pazienti oncologici. 8 milioni, infine, per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e adolescenziale.